Oggi per i 171 anni della Polizia di Stato, la cerimonia alla terrazza del Pincio presente alla Premier Giorgia Meloni. Siamo con Stefano Corradino. Questa sarà la nostra sfida, avere una Polizia sempre al passo con i tempi, ma senza mai perdere quei valori di tradizione e di abnegazione di cui oggi con la premiazione di Caduti abbiamo visto l'esempio più grande. Una Polizia al passo con i tempi, ma nel rispetto della sua tradizione. Così Lamberto Giannini, a margine della cerimonia al Pincio per i 171 anni della Polizia, alla presenza della Presidente del Consiglio, di numerosi ministri e varie autorità. E prima della cerimonia, la deposizione della corona nel Sacrario dei Caduti, per il 171esimo anniversario, sono stati ricordati e premiati numerosi poliziotti che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere, come Giuseppe Baratta che nel 1944 salvò 30 ebrei rinchiusi in un campo di concentramento. Sul palco del Pincio il ministro dell'Interno ha rimarcato l'attenzione della Polizia per quell'umanità dolente che vive in condizioni di povertà e anche per la situazione dei migranti, a poche ore dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Questo cosa cambia per voi? L'impegno della Polizia è sempre costante e quindi noi continueremo giorno per giorno a fare il nostro dovere, nostro dovere in termini di accoglienza, nostro dovere in termini di vigilanza e nostro dovere per cercare di combattere quelli che sono i responsabili di traffici terribili e che hanno portato a tragedie enormi come quella di Cutro.